Un incendio divampato nella mattinata di venerdì 25 agosto, intorno a mezzogiorno, in via Ponte Canavese, nei pressi della rotonda per salto a Cornier. Le fiamme hanno intaccato la tettoia d'uso legnaia, pollaio e deposito trezzi, situata nel cortile di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e San Maurizio Canavese, i carabinieri forestali di Ponte Canavese e la polizia locale. Presenti anche il sindaco Giovanna Cresto e il vice sindaco Vanni Grisapulli. Fortunatamente sono riusciti a mettere in salvo le galline e ad omare le fiamme, accertamente in corso sulle cause del rogo. Grazie. 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 Grazie.